Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Giordano non è riuscito a trattenere le lacrime, di fronte alle bellissime parole della sua primogenita. Tutto è accaduto durante la diretta tv, ma vediamo di cosa si tratta. Mario Giordano è stato ospite nello studio di Paolo del Debbio durante la puntata di Dritto e Rovescio, in cui ha ricevuto un messaggio molto commovente dalla figlia Alice. Nel messaggio, Alice ha condiviso la sua gioia per l'arrivo imminente del suo bambino, rendendo Mario Giordano un futuro nonno. Le parole di sua figlia erano piene di affetto, e ha menzionato la sua attesa nel vedere il ruolo di nonno di suo padre. Alice ha incluso un tocco di umorismo, dicendo che non vede l'ora di sentire nonno Mario recitare la formazione del grande toro come Ninna-Nanna. Questo messaggio ha chiaramente emozionato Mario Giordano, che si è dichiarato colpito dall'idea di essere chiamato nonno Mario. Le sue parole sono state le seguenti. Sentirmi chiamare nonno Mario mi fa un certo effetto. Ho messo una cassetta a casa, si paga una multa di 100 euro ogni volta che si pronuncia la parola nonno. Alice ha detto che stavolta la paghi tu. Ha ammesso Giordano rivolgendosi a Del Debbio. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.